Allora, Sanremo, buongiorno, buonasera, siamo a via del Babuino, a Roma, tu sei tifoso della Roma, però mi hai detto che hai seguito il festival di Sanremo e hai visto il presidente della Sampdoria, si, ho guardato ieri, si chiama Moreno? No, Ferrero, scherzo, Ferrero, dimmi, è un po' matto, un po', che ha fatto? Io non ho visto sinceramente, mi racconti che ha fatto? Si metteva a parlare? La cosa là, Centallora, com'era la canzone? Andava a Centallora? No, no, ii, 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 ii. Perché Sampdoria, Sampdoria è in provincia di? Boh? Dove si trova Sampdoria? No, quella è Genova, Genova, c'è, ognuna bella questa, no, allora, Genova, c'ha due squadre, Genova, Genova e Sampdoria, ci siamo? e appunto lui Sanremo sta vicino vicino è Liguria sempre Liguria quindi praticamente è giocato in casa il presidente certo e quindi dice che ha fatto casino ma dei cantanti che hai seguito Moreno Nesli Moreno non è che mi piace più da tanto perché è commerciale non è un bravo ti piace il rap però sì chi ti piace a te John Ergitano Ergitano Duke Montana anche Ergitano come era come si chiama era Simoncino Simoncino no Noiz Narcos quello sì Per Noiz conosco tutti Per Noiz Peppi Peppi Rap tutti defunti purtroppo Nesli pure Nesli dai fratello di Fabri sempre commerciale però perché lui l'italiano non lo conosce bene è romanesco perché si cantano romano no eh sì eh senti vabbè vuoi di qualche altra cosa quindi chi vince Sanremo io penso Moreno pensa Moreno sicuramente hai seguito te sì sì te mi ricordi cosa come si chiama Erdandi Pintus Angelo Pintus Erdandi quello è vero vabbè chi vince Sanremo questo scherzo ho vince Nesli ho vince Nesli Moreno Nesli può essere che lo vince Moreno però diciamo che non sono contento perché Moreno cioè commerciale non mi piace per niente quindi troppo commerciale secondo me lo vince Ferrero secondo me lo vince Giuseppe Ferrero va bene grazie simpaticissimi un Forza Roma è uno è due è tre sempre Forza Roma sempre Forza Roma o vince pure Gervinio ma quando torna Gervinio? oggi torna ha vinto ma ha vinto ma è costata cara è costata cara a Roma è partito Gervinio è diventato è vero Dumbia e dai allora mo vince lo squadetto a Roma recupera sette punti giusto benissimo ok grazie Forza Roma ciao buone cose grazie troppo è cominciato a fare a principi bella sacca